C'è la forma di vincere, quando vai nel breakaway e vai solo la ultima 1.5km, poi vincere Ma Casar ha detto di andare più veloce, perché lui aveva il sogno della maglia rosa C'è quello che ha detto? Casar, durante il breakaway ha detto che devi vincere, devi andare più veloce, perché il suo sogno è il pink jersey C'è quello che ha detto di andare più veloce il giorno, ho cercato di essere il più veloce nel breakaway perché ero solo vincere per la stagione, questo era il mio obiettivo Non importa quanti minuti avevamo in fine, voglio vincere C'è quello che ho cercato di salvare più veloce energia e poi vincere la ultima 1.5km Questo è il modo che devi vincere Questo è il tuo top, il tuo migliore nella tua carriera? Sì, questo è il mio migliore vincere, quindi è bello Grazie